ho sognato farlo dai ma che figata è ciao a tutti ragazzi bentornati con un nuovo test barra tutorial stiamo testando il nuovo aggiornamento del Ronin SC che ci permette di utilizzare il force mobile quindi di spostare il gimbal con il solo movimento del telefono mi fa impazzire sta cosa devo solo trovare un'utilità per questa cosa ma voglio farvi vedere come funziona perché è veramente interessante quindi diamo un'occhiata direttamente allo schermo del telefonino e vediamo come è possibile attivare questa impostazione l'applicazione che già conosciamo è la Ronin SC questa qui ve la mostro qui Ronin SC aggiornata all'ultima versione che vi permetterà di andare a attivare questo force mobile colleghiamo ovviamente il nostro cellulare con i Ronin via bluetooth e andiamo su create su create vedete che è stata aggiunta la force mobile che ci permette ecco qui entrando all'interno del suo menu di gestire sia speed che smoothing in realtà arriva così pan e tilt al 50% il roll è disabilitato e lo smoothing è tutto a zero per attivare il force mobile basterà appunto degli enable force mobile e automaticamente vedete che ruotando verso il basso quindi dandogli del pitch del tilt in avanti o del tilt indietro la telecamera si sposterà avanti o indietro dandogli del pan quindi della rotazione sull'asse dello YOW dell'imbardata il telefono ruota e la telecamera ruota con il telefono mentre in questo verso qua quindi l'asse del rollio è disabilitato se non andiamo ad attivarlo in questa maniera qua dandogli appunto anche l'asse del rollio con un 50% i movimenti sono molto scattosi vedete quindi diventa veramente difficile gestirlo se non andando ad aumentare leggermente la morbidezza per esempio del pan guardate già adesso come si muove più morbido andiamo ad ammorbidirli tutti di un 10 punti e abbiamo un qualcosa di più umano anche se mi muovo eccessivamente vedete che riusciamo a tenere un movimento più fluido qui in basso abbiamo il pulsante RISCENTER se ci interessa ricentrare e ricalibrare il telefono con il posizionamento della camera e basta questa era la novità di cui vi volevo parlare oggi perché mi è piaciuto tantissimo se avete delle idee sull'utilizzo di questo prodotto che è il force mobile magari scrivetemelo qui sotto nei commenti e sappiate che c'era già questa applicazione questa impostazione ma c'era solo per ios la novità è che effettivamente ora è disponibile anche sul sistema operativo android va bene ragazzi a me non resta che salutarvi ricordarvi gli appuntamenti che sono il martedì con la diretta il mercoledì facciamo questi video un po' particolari il giovedì alle pillole di Da Vinci Resolve e iscrivetevi al canale cliccate mi piace se vi è piaciuto questo video e noi ci vediamo con il prossimo video ciao ciao